Il Natale è una festa che vorrei passare con mio zio e miei parenti Il Natale è accontentare richieste di figli viziati e sperperare soldi in viaggi inutili Il Natale è l'occasione per essere felici in famiglia e tra amici Il Natale è capace di trasformare la tua tristezza in felicità e di farti passare dei momenti belli con la tua famiglia Il Natale è sinonimo di consumismo, di spot ostentati dai media, di sperpero di miliardi Il Natale è un'occasione per stare in comunità e riscoprire il valore di questa festa Il Natale è una cena che condivido con tutti i parenti che non vedo spesso Il Natale è un giorno in cui la gente dovrebbe rendere felice a qualcuno Il Natale è passare il tempo con le persone a teccare, con jingle bass di sottofondo e la neve che in bianco purifica il paesaggio Il Natale è un'occasione da passare con le persone a cui tieni Il Natale è la possibilità di vedere il mondo con un'ottica diversa Il Natale è un gioco per molte persone Il Natale non è religioso amore tra gli uomini e tendenza agli ultimi Il Natale è la coronazione della Babilonia capitalista, spreco e sperpero Il Natale non è regali e pranzi costosi Il Natale non deve essere un motivo di spreco Il Natale non è fare regali per comprare l'amore Il Natale non è un momento da passare da sole Il Natale non è divertirsi ricercando lo sballo e il divertimento in situazioni estreme Il Natale non è essere indifferenti verso le persone che soffrono Il Natale non è carità fraterna verso i poveri, i sofferenti e gli umili Il Natale non è un momento di solitudine e tristezza Il Natale non è la festa dove ogni famiglia si incontra per scambiare seguri, sinceri e affetto Il Natale non è un momento né da disprezzare e nemmeno da odiare Il Natale non è una giornata di criminalità e violenza Il Natale non è una festa da passare nel riempianto e nell'arabio Il Natale Grazie a tutti.